In questo video vi mostrerò dove trovare immagini royalty free per i vostri progetti di grafica o anche semplicemente per esercitarvi con Photoshop o Illustrator. Prima di cominciare il video voglio ricordarvi che ho recentemente creato un sito di grafica che si chiama graficafacile.com nella quale condivido la mia esperienza da designer con oltre 8 anni di esperienza e nella quale troverete tanti tutorial relativi a Photoshop, alla grafica, a Illustrator e altri programmi Adobe. Ma adesso andiamo dritti al punto del video. In questo video vi mostrerò 4 siti dove potete trovare immagini per fare esercizi su Photoshop. Detto questo comunque nei vari video troverete i relativi file in allegato in modo che potete trovare le risorse originali. Ora cominciamo con il primo sito che è freepik.com Questo è un sito che ho scoperto recentemente e vi permette di trovare immagini di alta qualità sia sotto forma gratuita sia sotto un piano che è a pagamento Però per la maggior parte quelle in forma gratuita diciamo sono sufficienti a mio avviso Quindi potete trovare ad esempio se scrivete qua nella barra potete trovare tutta una serie di immagini sia video sia in formato vettoriale e anche illustrazioni Quindi questa qui sarebbe la prima risorsa che vi consiglio La seconda è unsplash.com che è uno dei siti più famosi per quanto riguarda le immagini royalty free Quindi anche qui possiamo ad esempio andare nel menu in alto, cliccare su una di queste sezioni E come potete vedere ci sono tutta una serie di immagini di altissima qualità E sono tutte immagini royalty free Quindi potete tranquillamente usarle per i vostri progetti A seguire il prossimo sito che vi consiglio caldamente è pixabay.com Che si tratta ancora di un altro sito nella quale potete trovare non solo immagini ma anche video Quindi è molto interessante da quel punto di vista E se cerchiamo ad esempio anche qui una serie di immagini potete vedere che la qualità comunque è molto alta E si tratta sempre di immagini royalty free Ora l'ultima risorsa che vi consiglio di dare un'occhiata è pexels.com E questo si tratta di un sito storico nella quale potete trovare immagini e anche video di alta qualità E quindi sono tutta una serie di immagini e video che sono di risorse Che sono molto diciamo simili queste ultime tre tra di loro Quindi il mio consiglio è semplicemente di fare una ricerca di un'immagine su uno E se non trovate quello che volete Potete andare e esaminare queste altre Grazie a tutti Grazie a tutti